Cominciati i tanto attesi lavori di ripascimento della costa nord ad Alba Adriatica, fortemente rosa dalle mareggiate negli ultimi anni. Nella giornata ieri la società appaltatrice dell'Opera da 2 milioni di euro messi in campo dalla regione ha iniziato le attività legate al riporto della sabbia sulla battigia. La draga attraverso i grossi tubi sta portando la sabbia che consentirà il ripristino di un ampio tratto di spiaggia. Una situazione è quella della modalità e i tempi di ripascimento che però non è assolutamente piaciuta al presidente del cogevo Abruzzo Giovanni Di Mattia, visto che lunedì 2 maggio, dopo quasi otto mesi di assenza, le vongole nostrane torneranno sulle tavole degli abruzzesi e in particolare su quelle del terramano dove opera il più grande numero di imbarcazioni adibite a questa pesca specifica. Nei giorni scorsi abbiamo provveduto al trasferimento minimo delle vongole dall'ampia zona di prelievo della sabbia, dichiarato il presidente Di Mattia al quotidiano il centro, ed è sbalorditivo ciò che è emerso. Nella grande vasca utilizzata per lo spostamento c'era di tutto e soprattutto tante specie che popolano i nostri fondali. Il prelievo di sabbia per ripascimento ad Alba Adriatica si sta rivelando un disastro, non solo sotto il profilo economico per il valore delle vongole destinate a morte certa, in conseguenza dell'indiscriminato prelievo di sabbia da trasferire a riva, ma anche per il venir meno dell'equilibrio ambientale di cui tutta la fauna ha bisogno per vivere. Occorreranno anni per ricreare le condizioni che oggi vengono stravolte solo per non cercare strade alternative rispetto a quell'intrapresa. Secondo il cogevo Abruzzo, una delle realtà produttive della regione, con rapporti di lavoro anche all'estero, il programma del ripascimento poteva essere gestito per tempo e con maggior oculatezza nel rispetto dell'habitat marino.